Milano ci portiamo in bastioni di Porta Venezia per città di fiume con l'allievo. Ci metteremo in sicurezza per fermare le macchine per l'ordinanza regionale sul Covid-19. Come primo giorno adesso ti porto in bastioni di Porta Venezia per città di fiume con gli altri colleghi. Ci mettiamo con la macchina di traversa, sempre per una questione operativa. In sicurezza fermiamo una macchina alla volta, si controlla i documenti, si controlla il motivo perché è in gioco. Ci metteremo al controllo dei documenti e a verificare quali sono i motivi dei spostamenti di cittadini. Stavano in ospedale per un'attività. Stavano in ospedale per un'attività. Stavano in ospedale per un'attività. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie, hai ricevuto!